34, il Barcellona pareggia con un rigore di Messi contro il Valencia, 1-1 per il Barça invece giornata da incubo per il Real Madrid che perde ancora, davvero una stagione tutta da dimenticare per il Real Madrid. Questi sono i risultati della ventiduesima giornata, sconfitta a Granada la formazione di Mourinho, pareggia invece il Barça 1-1 a Valencia, vince di misura l'Atlatico Madrid sul Betis-Siviglia, mentre il Deportivo alla Corugna ultimo in classifica perde a Madrid contro il Getafe. Il Spagnolo vanta 3-2, gli altri risultati, il 2-2 dell'Atlatico Bilbao contro il Valladolid, delude in casa il Malaga contro il Zaragoza, soltanto 1-1. Siviglia batte il Raio Vallecano 2-1 e quindi come ricordavo Valencia in vantaggio, poi alla fine il Barça si è salvato. Tra poco vedremo anche la classifica della Liga Spagnola, Barça che però guida senza affanni la gradatoria a 59 punti, 9 in più della Tresdico che però non molla. Seconda forza del campionato ormai il Real Madrid deve dire addio ai sogni di gloria in Liga e concentrarsi sulla Champions, 43 punti per i Blancos, Malaga quarto a 36. C'è da lottare però per la Champions League con Betis-Siviglia, Raio Vallecano, Valencia e Levante insieme al Real Sociedad. Grazie per averci seguito, vi aspetto più tardi, naturalmente con il calcio di Tefcan, 19.35. Grazie a tutti.